Una domanda sul capanna privato, tu sei sposato? Certo, con Donna Sarda, di Castel Sardo, è qualcosa che sono orgogliosissimo, è stata una delle scelte migliori e più belle dell'Abbia, siamo innamorati, la Sardegna la conosci bene, io la Sardegna l'amo da impazzire, vuoi sapere, il mio segreto desiderio sarebbe di poter vivere sei mesi in Umbria, da dove sono originario e dove sono tornato ad abitare e sei mesi in Sardegna, questo farebbe di me l'uomo più felice dell'uomo